Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tappeti Tappeto Coliai 285X104. Questi tappeti vengono annodati dalle tribù kurde della Persia Nord-Occidentale. Sono tappeti annodati stretti e resistenti, dal vello alto e motivi molto belli di figure geometriche in colori spenti. Sono tappeti molto resistenti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lavorazione, Noted by Hand. Spessore circa, 8 mm. Pelo, lana, ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.